Signori ma che partita è stata, da spettatore mi sono divertito tantissimo, uno spettacolo, si 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 e il Napoli, demme demme, l'ha portata a casa, il Napoli demme demme sta risalendo la china si 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 e vado a rimarcare anche e soprattutto questo giocatore, poi autore del terzo gol ma oltre a lui anche l'altro ne ho acquisto, Lobotka secondo me hanno aggiunto qualcosa hanno aggiunto qualcosa al Napoli, mi è sembrato esagerato il paragone sulle gambe di Lobotka che Bergomi lì ha detto in un frangente, mi ricorda Zanetti, oddio, 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 oddio mi ricorda Zanetti per le gambe, per la felicità ma insomma mi sembra un po' troppo però come avevo detto questi sono due ottimi acquisti e si vede, è il campo che lo dice perché ripeto e ribadisco ogni volta lo stesso concetto, finché palla Zioneschio e fino a se stesso ma poi è il campo, è il campo ha una voce, ha una voce comprensibile a cui possono accedere tutti ecco per cui il campo palla bisogna solo saper ascoltare, ascoltare ragazzi è stata una bellissima partita, tanto spettacolo, tanti anche errori perché poi quando ci sono tanti gol vuol dire che qualcosa non è funzionato, la partita perfetta non è 5-5, la partita perfetta è 0-0 ma non siamo qui per far filosofia, parliamo di questo Napoli che comunque continua a crescere continua a crescere perché no, è normale che è un Napoli che io lo paragono all'interruttore della corrente elettrica il Napoli si accende e si spegne, si accende e si spegne quando si accende è capace di fare due gol come ha fatto subito e che gol? cioè quello di Milik è un bellissimo gol, il primo gol di Milik, ma mica solo quello, bellissimo gol poi dopo il 2-0 subisce lo schiaffo, subendo lo schiaffo cambia e vogliamo parlare dello schiaffo, che schiaffone che ha dato Quagliarella, giocatore intramontabile il gol di una bocchi, di una bellezza, di una bellezza proprio, di una bellezza, di una bellezza non c'è altro da aggiungere, bello, 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 bello una roba proprio bello, bello, bellissimo, e non stiamo lì a colpevolizzare Meret non stiamo lì a colpevolizzare Meret e forse qualcun altro portiere non la nemmeno sfiorava già l'ha sfiorata Meret, già tanta roba, ma quando ti arriva una palla la impatti così bene la calci così alla perfezione, era difficilissimo, un tiro difficilissimo esecuzione perfetta, bellissimo gol e poi da lì, come dicevo, l'interruttore è andato sul tasto off si è spendo, si è spendo un pochettino timoroso, pauroso e poi c'è da dire che la Samp ha fatto delle cose assurde cioè si pensa che la Samp sia scarsa, però non è che non lo penso, però vedendo anche un po' i risultati uno può pensare che la Samp sia una squadra scarsa invece se vedi il contropiede che hanno fatto nel primo tempo terminato sul palo e lì forse è mancata lucidità però se vedi il contropiede del primo tempo è una bellissima azione proprio ben congeniata, bella, 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 bella e qualcosina l'ha mostrato poi nel secondo tempo, come al solito, dobbiamo parlare anche di episodi arbitrali e qua se c'è da crocifiggere qualcuno io crocifigo, come al solito, il regolamento perché giustamente mi vai a annullare un gol per un fallo di mano di Gabbiadini che c'è, che c'è, quindi da regolamento va annullato, ma se proprio vogliamo lamentarci lamentiamoci come al solito, come dico io spesso lamentiamoci con il regolamento perché l'arbitro deve vederla quella cosa è possibile che l'arbitro non abbia visto in tempo quel fallo di mano e faccia continuare cioè così annulli un po' la poesia annulli un po' la poesia del calcio ma non ho perché il gol l'ha fatto contro il Napoli attenzione, badate bene perché tu ogni volta qualsiasi gol lo devi andare a vedere, analizzare può essere successo di tutto io non lo so questo regolamento ci lavorerei un po' su però partita secondo me ovviamente non macchiata dall'arbitraggio io come al solito lo metto sempre in fondo un rigore, il calcio di rigore che poi in realtà c'era perché Manolas commette un'altra idiozia quelle sono idiozie clamorose ragazzi lì non ce la prendiamo con l'arbitro c'è, non c'è il contatto lì è un'idiozia clamorosa un difensore non deve entrare in quel modo non serve in aria lì sta anche la bravura e l'intelligenza di un difensore e Manolas è pure uno sveglio veloce ma fa delle cose alcune volte si assopisce e è nato 2-2 c'è stato 2-2 e poi Napoli ti dimostra che è in crescita perché una squadra da 2-0 a 2-2 una squadra fuori casa in uno stadio così caloroso se ne va in Napoli prima di Gattuso in Napoli di qualche settimana fa questa partita la perdeva tranquilli eh tranquilli la perdeva invece 2-2 annullato tutto entra Demme fa anche lui gol la squadra la squadra ha intraprendenza ha voglia è rinata si è messa di nuovo in gioco ha trovato anche il 4-2 è finita così buono buon per loro buon per la squadra partonopea però ripeto io voglio parlare dei due acquisti di Demme e di Lobotica secondo me sono due acquisti azzeccati mirati ve l'ho detto Giuntoli non è un fessacchiotto l'ultimo arrivato Giuntoli quando porta a casa dei nomi che magari a noi sono poco poco sono poco conosciuti comunque lui li conosce lui sa lui sa è trovato due ottimi giocatori che fanno bene al Napoli poi è entrato anche Politano che ha beccato la munizione qualcuno aveva pensato simulazione simulazione ha detto ma noi queste cose qua a Milano non le facevo possibile che invece il tocco ce l'è stato è stato clamoroso l'errore ragazzi è finito così bella partita mi sono divertito veramente tanto spero anche voi fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti commentate likeate e perché no iscrivetevi al canale non posso far altro che augurarvi buonanotte buona snocce